17.000 euro per un censimento completo sulle aree verdi e le aree giochi cittadine per evidenziare criticità e capire dove intervenire. Il Comune lo ha presentato una volta ultimato con l'assessore all'ambiente Fabrizio Taranta e il sindaco Pierluigi Biondi. Oltre 60 spazi censiti con apposite schede per ogni area con criticità e giochi presenti con quelli eventualmente da sostituire. Il tutto per avere uno standard di sicurezza elevato anche alla luce delle recenti tragedie accadute in Abruzzo. La situazione per l'assessore Taranta non era certo delle peggiori ma è opportuno fare diversi interventi. Le risorse ci sono. I lavori al parco del Castello ad esempio sono quasi ultimati. Il 21 il parco riaprirà. Spesi lì circa 40.000 euro. Le aree verdi sono tantissime perché il territorio nel doposismo è cambiato profondamente e molte aree sono anche sfuggite a un piano di manutenzione e controllo. Finora si è intervenuti dopo segnalazioni ma non può essere questo il mood. Questa mattina presentiamo proprio la conclusione di questo lavoro che ha richiesto molto tempo e molto impegno da parte del settore. Abbiamo affidato ad un tecnico la ricognizione dei nostri parchi giochi per poter programmare un piano di manutenzione. Avevamo sì la contezza di quanti fossero, come fossero, dove fossero posizionati però andava fatta una fotografia dello stato attuale per verificare la condizione di ogni singolo gioco e lì dove sono emerse delle criticità, quelle più gravi abbiamo già provveduto a sanarle. Mentre adesso avendo appunto piena coscienza di quello che è lo stato dei parchi giochi e di ogni singolo gioco abbiamo la possibilità di programmare un piano di manutenzione per andare a ripristinare quelle che sono le condizioni di sicurezza di ogni gioco all'interno dei nostri parchi.